Come sarà l'ospedale del futuro? Quali saranno le sfide e le opportunità per garantire una sanità di qualità, efficiente e sostenibile? Sono solo alcune delle tematiche affrontate durante il convegno nazionale dal titolo Ospedale del Futuro flessibile, tecnologico e sostenibile, svoltosi nella sala convegni del secondo lotto dell'ospedale Mazzini a Teramo. L'obiettivo dell'evento è stato quello di offrire una riflessione approfondita sull'evoluzione degli ospedali pubblici, soprattutto a Teramo dove c'è in ballo la realizzazione del nuovo nosocomio, questo in un contesto di cambiamento demografico, epidemiologico e tecnologico che richiede nuove soluzioni organizzative, gestionali e assistenziali, in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini e di garantire l'equità, l'efficacia e l'efficienza del sistema sanitario. Abbiamo avuto questo convegno anche perché in questo momento in questa città questo dibattito del nuovo ospedale. È fondamentale avere il nuovo ospedale, è fondamentale averlo con i requisiti nuovi che richiedono la nuova normativa per dare a un ospedale tutto quello che serve essere efficiente, sostenibile, per essere flessibile, per essere all'avanguardia tecnologicamente e quindi per avere tutti quei requisiti che lo possa proiettare all'ospedale del 2050. Perché come tutti gli ospedali a me sono bosoleti, il nostro ciclo di vita oramai l'ha compiuto. Sì, lo si può risultare ma non avrà mai tutto quello che è necessario per far sì che un ospedale possa rispondere alle nuove esigenze che la sanità di oggi presenta. Noi abbiamo fatto questo convegno per confrontarci, per far capire e per capire anche noi in che direzione bisogna andare nel momento in cui si fa porre in essere questo ospedale. L'occasione è stata anche quella di annunciare un'importante sinergia con Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Intanto fatemi dire che il direttore generale ha una forza innovativa e una capacità e una voglia di migliorare l'organizzazione della propria azienda che ho visto in pochi direttori generali. Noi ha chiesto il nostro aiuto e noi gli diamo tutto il massimo del nostro aiuto per fare in modo che questi nuovi modelli organizzativi possano essere messi in attuazione prima possibile nell'AS di Teramo in modo che i cittadini di questa azienda possano vedere i benefici di questa rivoluzione che noi stiamo facendo in tutta Italia. Quindi facciamo in modo che qui arrivino prima che in altri posti.